Grazie a tutti. Chiediamo il suo nome e cognome per il pubblico del web. Benissimo, allora, visto che abbiamo un ospite illustre come lei, io voglio chiedere la sua personale definizione di eccellenza. Che cos'è per lei un'eccellenza? E allora, un'altra domanda che le voglio fare e che mi viene uomo ed obbligo è sapere che cosa pensa di questo nostro bel paese? L'Italia è ancora un bel paese? Sì, l'Italia è un bel paese, è un'ottima regione, è un'ottima regione, è un'ottima regione. Grazie, siamo molto pronti di questa sua definizione, grazie. E allora adesso i suoi personali auguri alla rivista e a tutti. E' un'ottima regione, è un'ottima regione. Invece Lauro che è l'editore di The Excellence, che purtroppo stasera non è con noi, poiché è a striccia di un potente accordo con la famiglia Altani che ci permetterà di allargare la distribuzione nel Middle East e a Doha dove inaugureremo gli uffici con il prossimo anno. E questo è splendido, allora auguri eccellenti con The Excellence, auguri di Buon Natale, che finisce, hanno qua, vorrei qui, se passate da migliorire.